Lo aveva già annunciato il bilancio regionale dell'Inps. I sindacati confederali lo confermano. E boom di cassa integrazione. Da gennaio a maggio in Emilia-Romagna le richieste di ricorso agli ammortizzatori sociali sono aumentate del 12,6%, raggiungendo il monte ore di 39.200.000, il dato più alto degli ultimi quattro anni. La provincia più colpita risulta a Modena e la spiegazione, oltre che nella crisi economica, è da ricercare anche negli effetti delle calamità naturali, dal terremoto all'alluvione alle più recenti trombe d'aria. Va male anche nel Ferrarese, la provincia più povera secondo le statistiche, che ha visto raddoppiare le richieste di cassa. Va un po' meglio per Bologna, dove frenano le richieste. Qui però, spiegano gli osservatori, purtroppo sono aumentati i licenziamenti e con essi la percentuale di disoccupati. CGL e Cisle Will annunciano una manifestazione a Roma per il 22 e il 24 luglio per ricordare al governo che occorrono ancora 26 milioni di euro per rifinanziare gli ammortizzatori sociali fino alla fine dell'anno. C'è il rischio che le nuove limitazioni ai sussidi attualmente all'esame dell'esecutivo lasciano 32 mila lavoratori senza alcun sostegno al reddito. E questo potrebbe spingere le aziende a licenziare senza passare prima per la richiesta di cassa integrazione.